e ciao a tutti ragazzi io sono come tutti quanti sapranno elettro 16 oggi siamo in un nuovo video dopo un po' di tempo mettiamo già il portale ecco qua ecco qua mettiamo qua magari e ragazzi oggi siamo nella minecraft scp la volta scorsa abbiamo visto un scp che era l'scp 2430 che era hitler 6 allora dopo quel video raga voglio smetterla di parlare di quelle scp per il semplice motivo che lo sapete quindi direi di andare dall'scp di oggi che ragazzi è davvero molto vicino e si trova nel punto dove si trova l'sc 24 cioè non si trova proprio la però si trova da quelle parti ok raga all'occhio che che è successo what what raga ah che capo ho ansia ma anche che ha raga il mio personaggio misteriosamente ha un effetto d'ansia che muo ansia ma perchè abbiamo ansia c'è qualcosa che ci ha fatto avere ansia ok aspettiamo che passi ma non so se l's ma raga ansia la dava e da questa parte fermi c'è qualcosa qua boh ragazzi è molto strano avevamo cecità cioè no non cecità ansia va bene comunque l'scp di oggi è questo qui e nel fondo c'è c'è una strano liquido che mi pare era liquido della palute non ne sono sicuro però vabbè dai buttiamoci non so ok là c'è un enderman ciao e questa c'è questa è la cella perchè fammi vedere eh là c'è un'altra cella vabbè ok non l'ho triggerato mi sto spaventando vabbè direi di entrare nella cella che non c'è c'è il c'è il c'è questo mi ricordo che cos'era infatti è il jade vabbè non c'è un ingresso quindi entriamo così quindi allora che carta richiede level 1 direi di entrare allora scp glass e euclid ed è il 124 allora il 124 dai lo conosco ed è molto bello conosciuto qua richiede una level 2 comunque lo conosco non l'abbiamo mai visto nella serie principale nella vecchia serie però lo conosco qua c'è una chiave di livello 2 qua c'è un po' di carta e una batteria comunque scp124 si chiama terreno fertile e praticamente non c'è nulla da dire è un terreno fertile normale che può far crescere le cose più velocemente abbastanza banale però dai è molto utile vediamo un po' qua qua c'è il punto d'osservazione ma tanto questo scp è palesemente innocuo quindi direi qua c'è la ringhiera di scp087 e direi di entrare salve cioè non sia quale che carta richiedeva quale richiede una level 4 eh si infatti perché qua mettiamo il portale qua fammi vedere che carta richiedeva level 2 va bene e niente vediamo un po' allora questa questo è il terreno se ci cammino sopra non succede nulla lo posso spaccare si chiama terreno fertile 124 col piccone si spacca più veloce mi sta strano è un po' strano e adesso allora io ho dei semi due semi mi ha dato achievement però noto che guardate se io li metto ecco si bagga cioè li rende tipo incompatibili guardate ok li posso mettere così e praticamente questi dovrebbero crescere più velocemente mi pare di capire eh anzi aspetta fammi fare una cosa questo lo metto qua qua mi voglio prendere eh nove di questo ne prendo nove perché non so quanti ne devo prendere questo lo ripianto qua sei l'ho messo bene questi nove me li porto al laboratorio e no allora però questi adesso li mettiamo e dopo gli spe... ecco vedete è già cresciuto tutto questo frattempo questo è già cresciuto cioè solo per dirvi quanto veloce volevo allora volevo prendere un sapling cioè il sapling avete presente qua avevo qualcosa ho dei semi di zucca dai si dai basta ho dei semi semi di zucca dai piantiamo pure questi vediamo un po' questo è già sta già crescendo eccolo è piccolino maronna maronna microscopico si vede un pixel qualche pixel ecco ecco è cresciuto ok ora si vede meglio allora adesso andiamo a prendere la la il sapling e è notte maronna ah ragazzi ci vediamo fra poco ok ragazzi allora sono riuscito a prendere un sapling anzi aspetta prima mettiamo qua il token il coso la targhetta allora ragazzi qua mettiamo i pezzi di carta qua il jade lo metto qua mettiamo anche la chiave si dai lasciamo la no il jade lo metto qua si e qui allora torniamo vediamo un po' qua qua è già cresciuti sapling mettiamoci anche l'alberello che si può piantare ovviamente qua il il semi è cresciuto vabbè e non non fungerà però noi possiamo raccogliere avete visto è molto visto abbiamo preso il grano tranquillamente cioè l'unica cosa è che non li posso mettere ah no aspetta mi sa che c'è qualche bug mi sa che era un leggero bug eh non lo so vabbè comunque questi semi li mettiamo qua li mettiamo qua tutta la roba e adesso dobbiamo vedere che c'è si era bug va bene dobbiamo vedere questo qua e io vorrei vedere se cioè penso funzioni anche la bone meal penso eh seriamente però aspettiamo che il sapling cresca secondo me crescerà però il problema è che ci sono i tubi questi qua e quindi ho paura che non cresca lo spostiamo lo metto qua dai e aspettiamo mi sa che ci vorrà molto tempo per il sapling cioè per l'albero lui ovviamente si attende questo sistema lo dobbiamo anche portare e che cosa non lo portiamo ah comunque devo fare anche rifornimento di pizza se e aspettiamo mi sa che farò un taglio però dopo vi dirò allora sono andato a rifornirmi un po' di pizza e vediamo qua ok eh ok l'albero è cresciuto è molto strano non so se è andato no non è andato per fortuna non è andato a danneggiare mi sa eh puoi vedere qua si non è andato mi ha dato già due sapling oh mio dio si vede che è un albero particolare beh però è molto particolare questo albero beh ehm ragazzi noi abbiamo fatto tutti i test si non credo manchi nulla direi ovviamente di prendere i nove che avevo pre che avevo già scelto selezionato ecco eccoli qua gli alberi li possiamo anche piantare tanto ah che poi una cosa è che qua c'è l'acqua però non so se funziona senza l'acqua ma credo di si eh glielo mettiamo questo qua adesso raga visto che abbiamo un po' di tempo ci vediamo nell'altro laboratorio ok ragazzi siamo nel nuovo mondo e qui dovrebbe esserci ecco qua il token il label e i pezzi il token ovviamente dobbiamo risbloccare la conoscenza perchè visto che è un altro mondo non è che funzioni proprio così e adesso dobbiamo andarlo a mettere nel nella sua cella c'è uno scheletro però fa nulla Minecraft non è che abbia chissà quanta cooperatività eh lo scheletro c'è sta la fermo immobile comunque eccoci qua qua abbiamo la zona no più avanti eh si più avanti qua abbiamo gli ultimi no qua abbiamo gli ultimi SCP abbiamo il drone eccolo qua il drone e Hitler il la cosa la mettiamo qua quel label quel token e qui devo spaccare qua cioè la terra e per per chi facesse domande c'è la terra ecco qua mettiamola terreno fertile e abbiamo fatto questo io le vado a mettere dopo da qualche parte e abbiamo fatto abbiamo messo SCP 124 eccolo qua con lui raga abbiamo un testo in sospeso dobbiamo trovare la spada rotta di telekill e dopo dovremmo vedere se lui effettivamente è immortale ma secondo me è immortale lui poi qua vabbè il drone e il vaso dei mostri che ha spawnato altri mostri però questi i mostri ovviamente despawnano per i fatti loro quindi ragazzi direi che anche per questo video dell'SCP è tutto lasciate un bel like iscrivetevi e da me è tutto quello scheletro ok vabbè da quei mostri molto brutti e da me ovviamente è tutto ciao ciao